Sono Daniela Restelli, ho 25 anni e sono laureata in politiche europee internazionali alla Cattolica di Milano. Sono consigliere comunale a Caronno Pertusella e mi candido al Consiglio di Regione Lombardia. La mia candidatura è una candidatura giovane, si vuole in questo modo dare un segnale al territorio e alla gente di un cambiamento della politica, del modo di fare politica e questo è il significato di candidare una ragazza giovane di 25 anni. Non è una candidatura di un giovane allo sbaraglio perché sono amministratrice locale, come dicevo prima sono consigliere comunale e quindi ho un'esperienza amministrativa. So quindi quali sono le problematiche degli enti locali e la scelta di portare Regione Lombardia agli amministratori è proprio quella di avvicinare il più possibile la politica alla gente e alle esigenze del territorio. Il fatto di essere giovane mi permetterà anche di portare in evidenza alcuni problemi giovanili soprattutto riguardo al lavoro. Il lavoro è un tema di cui si parla tanto in questa campagna elettorale ed è giusto che sia così perché è uno dei problemi principali di questo periodo. Noi per i giovani vogliamo far presente che non è adatto il sistema formativo che l'università e le scuole propongono agli studenti. Occorre una rimodulazione del sistema formativo, dell'offerta formativa delle scuole in primo luogo e anche dell'università che Regione Lombardia può provare a realizzare attraverso una collaborazione con il MIUR, cioè con il Ministero dell'Università e della Ricerca. Non è più possibile che i giovani passino 15-20 anni sui libri del Ministero studiando quello che ci dice lo Stato centrale e poi ci troviamo a essere presentati al mondo del lavoro con competenze insufficienti o inutili e quindi le aziende e chi dovrebbe assumerci ci fa quasi un favore a farci fare degli stage con rimborso spese o addirittura gratis per insegnarci il lavoro. Un secondo aspetto che mi interesserebbe portare in Regione Lombardia è quello del controllo reale di tutti gli enti, le fondazioni e le società con partecipazione regionale. Le persone che siedono nei CDA non devono stare lì a scaldare la sedia ma devono controllare realmente come vengono spesi i soldi dei cittadini lombardi e devono essere lì a fare gli interessi dei cittadini lombardi. L'equità sociale è una cosa importante che va ristabilita nel suo senso principale e cioè occorre inserire il requisito della residenza in Lombardia per l'accesso ai servizi e agli immobili. Si parla sia di case popolari sia di anziani ma anche di giovani studenti. Le graduatorie devono essere certe e non può più succedere che ci siano persone in fila da anni che continuamente si vedano scavalcate dagli ultimi arrivati che sono in condizioni peggiori di loro. Per quanto riguarda lo sport, le infrastrutture sportive necessitano di finanziamenti. È un aspetto che se ne parla da molto tempo. È ora di dare questi finanziamenti per poter modernizzare le infrastrutture sportive. Perché quindi votare Lega Nord? Votare Lega Nord perché propone con la mia candidatura di svecchiare la politica, cambiare il mondo della politica ed essere più vicini al territorio.